Filippo, che guerra, gli ultimi giri, è stata bella tesa, eh? Sì, è andata molto bene, ho preferito stare un po' tranquillo e portare i punti a casa e il podio, ho preferito non rischiare questa volta. Ti rimane un po' di amaro in bocca oppure sei soddisfatto? Sono soddisfatto perché c'è il mio primo podio la VSK e... Volevi portarla a casa? Sì, esatto, ho sempre fatto un po' di un trofei, però non mai portare a casa la cupa della VSK. Complimenti, congratulazioni. Grazie.